Gianmarco Centinaio ha approvato al Senato il decreto cultura, la Lega Nord come ha votato? La Lega Nord ha votato contro, un decreto che ritiene iniquo per il Paese, una legge mancia nel campo della cultura perché purtroppo per far piacere agli amici degli amici degli amici si sono favorite determinate città, determinate realtà anziché altre. Facciamo alcuni esempi, pensiamo agli 8 milioni di euro che vengono dati alla Firenze del Sindaco Renzi, altri 400 mila euro a Firenze, vengono dati 4 milioni di euro per esempio a Ferrara grazie alla presenza dell'On. Franceschini, vengono dati 2 milioni di euro grazie a un emendamento targato PDPDL per Roma per il Mausoleo di Augusto e anche altri fondi, per esempio 5 milioni di euro all'ex ministro Melandri per quanto riguarda la gestione del Maxi che è il mega museo di arte contemporanea. Per tutto il resto dell'Italia niente. La cosa che ci fa pensare in modo negativo è che si stia tirando la volata al Sindaco di Firenze però abbiamo analizzato anche in modo ironico il fatto che per i poveri Pisapia e Fassino, quindi per le città di Milano e Torino e quindi per il Nord ancora una volta anche nel campo della cultura non viene dato nulla. Abbiamo votato anche contro perché riteniamo che sia ingiusto il fatto che la cultura venga finanziata con l'aumento delle accise sulle bevande alcoliche quindi tutti coloro che da d'ora in avanti berranno una birra o faranno un aperitivo staranno finanziando la cultura e anche questo è indegno, visto è considerato che si stanno facendo tantissime campagne anti-alcol e quindi in questo caso si cerca di andare nella parte opposta e poi anche sotto il punto di vista dell'occupazione i 500 giovani per la cultura verranno impiegati solamente giovani che provengono dal sud. Abbiamo fatto un emendamento, abbiamo chiesto di impiegare giovani da tutta Italia e ci hanno risposto che il nostro emendamento è incostituzionale. È più incostituzionale un emendamento che chiede giovani da tutta Italia o uno che privilegia quattro regioni d'Italia? Lo chiediamo a voi. Noi l'abbiamo chiesto al governo e non ci hanno risposto.